Buonasera a tutti e benvenuti. Noi siamo al compresso battistico costigliolese da Costiglio Ledasti e siamo molto felici di essere qui questa sera con voi a Orcimiano a offrirvi la nostra musica. Abbiamo iniziato il concerto con un brano piuttosto tradizionale, per gli avvertitori di una banda, una marcia intitolata Britannia, opera del compositore Doppel. Cambiamo totalmente genere con il prossimo brano, per il quale intendiamo omaggiare una delle più importanti rock band della storia della musica, i Queen. Sarebbe arduo cercare di riparcorrere le vicende dei Queen. Si tratta di una storia di grandi successi e di canzoni memorabili diventate famose in tutto il mondo grazie all'inimitabile voce di Freddie Mercury, il frontman della band prematuramente scomparso nel 1991. Stasera non potremo certo contare sulla voce di Freddie Mercury, ma tenteremo di rievocarla attraverso i nostri strumenti, toccando una selezione di canzoni che sicuramente già conoscete. We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust e We Are the Champions. Allora non resta che augurarvi buon concerto con il complesso bandistico costiglialese, diretto dal maestro Fausto Gali. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.